Ueeh, non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Ueeh, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, anche se c'è stata la patch senza bisogno di downtime dei server, parlo ovviamente della 10.10, sono state introdotte un sacco di novità, ovviamente, non visibili in game ma nei file di gioco, tanta tanta roba nuova che ci continua a far capire come si sta evolvendo questa season numero 10 e quante cose ancora dovremo aspettarci a partire dai nuovi spray gratuiti che ci verranno dati nei prossimi giorni. Tutti abbiamo ricevuto quello per festeggiare i server del Medio Oriente ma ce ne sono altri animati che voglio farvi vedere e che saranno ottenibili gratis. Ma parleremo anche finalmente della data di uscita del Bao Bros, una delle skill tortellino, il raviolo insomma ragazzi, una delle skin più vecchie, liccate e ancora non rilasciate e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati su tutto il dietro le quinte di Fortnite. Prima però volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator Xyuderone. Grazie di cuore ragazzi per supportarmi nello shop mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima è la domandina raga eh lo so ieri ieri vi ho chiesto da che season giocate un'ora e mezza per mettervi i cuori quindi veramente tantissimi commenti grazie di cuore domanda di oggi quasi scontata dai e ve la faccio facile facile come ti sembra il nuovo la nuova fenditura rotami mi piace 6 pollice per me pollice in su è talmente ignorante senza senso e nello stesso tempo OP se utilizzata in maniera corretta che merita un bel like a me piace ci sta è sicuramente uno dei metodi più efficaci anti robot è anche uno dei metodi più efficaci come ci suggeriva qualche amico in live ieri da utilizzare in arena perché effettivamente se ce l'hai e riesce a tirarla fa su un casino che ti rischia quasi di fare dei punti extra quindi mi raccomando ditemi qua sotto nei commenti come vi sembra la nuova fenditura rottami ma quindi ciancio le bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a parlare molto velocemente della fenditura portatile senza perderci troppo tempo un oggetto lo prendiamo la vita epica lo si lancia rilascia degli oggetti il triceratopo la macchina della polizia l'ancora e il cesso gigante ma vogliamo un attimo vedere velocemente ragazzi con un gameplay quanto effettivamente fa male siamo in creativa e come vedete questa è una struttura totalmente in metallo guardate che devasto ragazzi se le tritura le strutture immaginatela come vi anticipavo da vedere in arena potrebbe essere veramente la vostra ancora di salvezza per poter buttare giù strutture megagalattiche e magari farvi fare dei punti extra se invece andiamo direttamente sul mecca come vi anticipavo ebbe è un ottimo counter direi perché andandogli sopra danni totali al mecca mecca che esplode e noi che tranquillamente se ci va bene possiamo addirittura killare i guidatori o il mitragliere del web del web del mecca o comunque semplicemente distruggerlo quindi tanta tanta roba per questo rift portatile e andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento parliamo anche delle novità ovviamente che si sono viste nell'ex campo da calcio lo avevamo già anticipato anche qui vi lascio intanto con una clip mentre parliamo perché ci sono degli oggetti consumabili che cambiano man mano che passano i secondi li avevamo già spoilerati qualche giorno fa adesso finalmente la notizia è ufficiale ci sono due oggetti che magari alcuni di voi non hanno mai provato il primo è quello che state vedendo è la pietra salterina pietre salterine presenti quando nella season 4 cadde il meteorite e formò sprofondo stantio ancora senza alberi senza verde intorno c'erano tutte queste pietre mentre quella che state vedendo in questo momento sono le pietre delle rune del cubo season 5 che come vedete per un tot di secondi ci trasforma in fantasmi o comunque in presenze sostanzialmente invisibili e con la possibilità di saltare mentre siamo in aria oltre che adimo oltre che a muoverci molto velocemente quindi bellissima anche l'idea di mettere consumabili random un po più triste invece il fatto che non ci sia più il campetto da calcio e andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi parliamo della skin bao bros la skin bao bros ragazzi è innanzitutto una skin che vale per 4 i 4 fratelli bao c'è da dire una cosa incredibile questa skin per la prima volta è stata liccata a gennaio di quest'anno ragazzi quindi sette mesi fa non si è più saputo nulla sebbene sia sempre rimasta inserita nei file di gioco tra l'altro è un set super completo perché ha il backpack e ha anche il piccone il backpack è un non me lo ricordo però mi ricordo che il piccone è invece un mestolo proprio per i ravioli come vedete sono i 4 fratelli raviolo e la notizia della data di uscita è proprio questa il bao bros outfit set which has been leak over 7 months ago quindi è stato liccato sette mesi fa ma potrebbe anzi quasi certamente arriverà il 22 agosto perché il 22 agosto è il il bao national day quindi è il giorno nazionale del raviolo al vapore in poche parole ed è molto probabile che appunto questa skin esca in questo giorno giorno assolutamente perfetto sappiamo che sarà una skin epica quindi 1500 v bucks se la volete prendere quattro stili personalizzabili e poi il piccone invece di rarità non comune quindi non vediamo l'ora di vederla finalmente in game e andiamo avanti con il prossimo argomento tutti come vi anticipavo abbiamo ricevuto lo spray qua si chiama in inglese stay smooth non ricordo il nome in italiano bellissimo spray comunque animato con un bell'effetto a me gli spray animati piacciono comunque sanno fare la loro porca figura lo abbiamo ricevuto perché sono stati finalmente ufficializzati i server medio orientali in realtà già disponibili ma questa era proprio la data ufficiale di festeggiamento sappiamo che però nei prossimi giorni arriveranno altri spray gratuiti per tutti noi e ve li voglio fare vedere il primo il pay to win come vedete ragazzi animato anche questo molto probabilmente avevo visto da qualche parte che mi sembrava animato ma non è l'unico disponibile avremo anche il take cover quindi copriti in poche parole un rocket che attraversa una finestra disegnata su un muro e l'ultimo ragazzi il comet in realtà come vedete sono quasi degli spray commemorativi di questa season spray che verranno appunto assegnati perché apriranno come vi avevo già anticipato nuovi server per giocare in maniera più fluida a fortnite so che in molti ragazzi nelle live mi chiedete xuder quando arrivano i server in italia xuder ci sono i server più vicini no purtroppo ragazzi io non posso darvi queste risposte noi sappiamo che dall'italia ci allacciamo in un server se non ricordo male o a dublino o a parigi però sono più propenso a pensare che sia a dublino penso che vogliano anche aprire un server più vicino che ci garantirebbe ovviamente di pingare nettamente meno soprattutto per i ragazzi che magari hanno difficoltà appunto nel riuscire ad avere un game fluido perché ovviamente con il ping alto automaticamente anche i frame si vanno a perdere i movimenti del personaggio non sono proprio così eccezionali ma ragazzi che dirvi anche in questo update un sacco di news per tenervi come dicevo sempre aggiornati sul nostro fortnite io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale un bel pollicione in su noi ci vediamo alle 8 in live ciao 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 ciao